Stefano, squadra solida nelle ultime tre partite, zero gol al passivo. Complimenti. Sì, solida. L'ultima volta che è successo, le prime tre giornate, le prime tre erano zero gol al passivo, poi ne abbiamo preso quattro con l'Avezzano. Quindi stiamo attenti a fare proclami. Una squadra che sta dimostrando di voler raggiungere magari qualcosa di impensabile, perciò ormai siamo lì, lottiamo. Dove possiamo arrivare non lo so, però ci proveremo sicuramente fino alla fine. State poi tra l'altro bene, no? Nel momento decisivo del campionato, perché venite da due vittorie, un pareggio, c'è adesso un altro scontro diretto da giocare in casa. Giornata rosso-blu. Sì, è un'altra partita, un altro scontro diretto, perché la classifica dice quello. Incontriamo sicuramente una squadra che il giorno in andata era quella che esprimeva il miglior calcio. Adesso sta avendo un periodo di flessione, non so perché, anche se reputo la San Giustese, a livello anche di calciatori, la squadra che si è rinforzata meglio, come qualità. È un paradosso questo, no? Sì, è una squadra ambiziosa, ma ha dei valori importanti. Dicevi bene, la San Giustese è tra le due o tre migliori espressioni sul piano delle organizzazioni di questo campionato. In cima alla lista io ci metto naturalmente il notaresco, non perché sono qui. No, per questo fa piacere, magari riconoscere il lavoro dello staff, dei ragazzi, perciò per noi è un grande orgoglio. Il campo dice questo, la classifica lo sta dimostrando, per noi siamo stati bravi a inserirci in una lotta dove magari all'inizio dell'anno non eravamo in lista perché c'erano squadre superiori, ma a livello sulla carta, però siamo stati bravi a inserirci, ci siamo lì dall'inizio dell'anno e speriamo di rimanerci fino alla fine. In vetrina tanti giovani, tra l'altro Fabriani ha vissuto queste due giorni a Napoli, si è allenato con la primavera della Napoli. Mi pare che ci siano stati giudizi positivi. Sì, il ragazzo è piaciuto, penso che lo seguiranno fino alla fine dell'anno, poi vedremo se sono rossi o se fioriranno, altrimenti lui deve continuare a fare bene con il notaresco perché è giovane come tutti gli altri e questa deve essere la loro ambizione, deve essere quella di migliorare sempre. Tanto Fabriani è un pupillo di Le Angelis, possiamo dire. Pupillo è un parolone che per me sono tutti uguali, per lui lo conosco da più tempo perché l'ho preso a Vezzano che aveva 15 anni, perciò penso che... L'hai visto crescere. Sì, e adesso sta dimostrando magari il suo valore, perciò come Cancelli, come Blando, sono tanti di Stefano, altri che hanno giocato di meno, Monti 99, perciò alla fine penso che il notaresco abbia parecchi giovani di valore. Sette partite all'epilogo della stagione, che cosa sarà secondo te determinante? Adesso chi avrà più birra, chi sarà più spensierato perché i punti pesano, bisogna essere pratici. Noi ripeto, rispetto alle altre che hanno magari i giocatori di valore, dobbiamo metterci sempre la spensieratezza e la voglia di stupire, quella che magari ci ha contraddistinto fino adesso. Cudini sicuramente andrà via, ma pensiamo anche Stefano De Anni. No, 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 non lo so, Cudini bisogna chiederlo a lui, ma qua penso che... No, ma non abbiamo parlato se in genere, o mai nessuno, questo sono domande che bisogna farle al Presidente, no, no, non perché c'è un ottimo rapporto con il Presidente. Il Presidente mi ha detto che è una domanda che devo fare a te, quindi mettetevi d'accordo. No, ma è preso, non abbiamo mai parlato di futuro, anche perché penso che a marzo parlare di quello che succede tra un mese e mezzo penso che sia un po' per l'altro. Tu mi insegni che di solito i piani si fanno a marzo, così si dice. Noi siamo partiti più tardi l'anno scorso, perciò vediamo, non lo so, non so che succede, vediamo.